Festeggiamenti sobri, quelli per il 50esimo anniversario dell'istituzione della Regione Molise, durante i quali il Palazzo di Via Genova è stato intitolato al primo presidente, Carlo Vitale. Ospite d'eccezione, invece, il ministro della Difesa, Mario Mauro. Corre ai ripari il sindaco di Isernia, convocando i tecnici del comune, il responsabile che gestisce l'impianto di depurazione delle acque. A breve, rassicura il primo cittadino, partiranno i lavori che al municipio del capoluogo Pentro costeranno 100.000 euro. Una situazione insostenibile, quella vissuta dagli operatori sanitari al Santissimo Rosario di Venafro, costretti a turni massacranti per far fronte all'emergenza. Sulla situazione, il comitato chiede un tavolo tecnico con il governatore Frattura. In Serie D, gli under fanno la differenza, come lo stanno dimostrando i ragazzi del Termoli. Possibile l'arrivo di un giovane anche per la difesa. Eccellenza, il campo basso vince, anche grazie ai giocatori duttili presenti in organico, in grado di fare la differenza nelle emergenze. Buongiorno, ben trovati con una nuova edizione del nostro telegiornale. Lo avete sentito dai titoli. In apertura ci sono i festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario dell'istituzione della regione Molise, durante i quali il Palazzo di Via Genova è stato intitolato al primo presidente Carlo Vitale, intanto dopo mezzo secolo per il piccolo Molise, la priorità sembra essere ancora quella della difesa della propria autonomia. Sentiamo il servizio. Era il 12 dicembre 1963 quando il Senato discusse e votò la proposta intitolata Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione Molise. Nell'aula di Palazzo Madama 240 i presenti e solo 8 i voti contrari alla proposta che cinque giorni dopo approdò in Parlamento ricevendo 536 voti favorevoli. Nacque così la ventesima regione d'Italia e ora, in occasione dei 50 anni dalla sua istituzione, la sede della Giunta regionale di Via Genova è stata dedicata a Carlo Vitale, primo governatore del Molise, del quale oggi in tale occasione è ricordato proprio il suo celebre discorso di inizio mandato. Parole queste quanto mai attuali che ricordano come a 50 anni di distanza sia necessario raggiungere la piena autonomia in ogni settore, un discorso che è stato proprio l'attuale presidente a voler ricordare. È straordinario il modello di regione tracciato nelle dichiarazioni programmatiche da Carlo Vitale, una regione che deve fungere comunque da elemento di raccordo fra lo Stato e il cittadino, con le deleghe sicuramente assegnate, ma soprattutto con un'attenzione ai temi sociali di una straordinaria attualità. Qualcuno in questo Paese paventa la possibilità della perdita dell'autonomia amministrativa di questa regione considerando i numeri che questa regione esprime. Sicuramente è un dato, sono però convinto che con attenzione, con rigore e con sobrietà questa regione senza difficoltà può ambire a diventare elemento di riferimento per le buone pratiche, per cui il rilancio che come amministratori facciamo è di buon esempio per il resto del Paese e quindi esattamente in controtendenza rispetto alla paventata perdita dell'autonomia amministrativa. Visibilmente emozionate anche le figlie e la moglie del primo governatore del Molise. Io, ripeto, a nome mio, delle mie sorelle, di mia mamma soprattutto, viviamo questo come un grande abbraccio, lo dicevo prima, di mio padre rivolto a noi perché l'abbiamo vissuto attraverso la gente comune, in quanto eravamo piccolissime. La giornata di oggi ci ha riempiti, ci ha colmato quel vuoto che abbiamo sentito nel cuore per tanto tempo. Forse inconsciamente, perché siamo cresciuti con la grande umiltà che mio padre pur non essendoci ci ha trasmesso nel sangue, non abbiamo mai preteso che gli venisse riconosciuto qualcosa. Però quando ci è stata comunicata questa notizia, devo essere sincera, siamo rimasti molto, molto, molto contenti. Una battaglia, quella per l'istituzione della ventesima regione, che come sostenne il parlamentare molisano Giacomo Sedati durante il suo discorso alla Camera, fu condotta dagli spiriti migliori, che fu un movimento del popolo a voler poi portare avanti. E subito dopo la cerimonia che ha intitolato il Palazzo di Via Genova, Carlo Vitale e le celebrazioni del cinquantesimo anniversario sono proseguite con una seduta straordinaria del Consiglio regionale aperta ad esponenti politici dell'attuale e delle precedenti legislature. Sentiamo. Il Molise, quale futuro? Presupposti per la partecipazione attiva all'Europa delle regioni. Questo il tema e l'argomento del dibattito della seduta straordinaria aperta del Consiglio regionale. Una seduta pubblica per ricordare la storica ricorrenza che rilancia, ha detto il Presidente del Consiglio regionale, Vincenzo Niro, il ruolo delle istituzioni. Oggi siamo in un momento sicuramente diverso da quello lontano, 1963, con dei sacrifici in più e credo che come classe dirigente siamo i primi a stringere la cinchia con la speranza di poter riprogrammare in maniera seria e più attualizzati quei pochi fondi che ci arrivano dallo Stato. Presenti i politici di oggi e di ieri che hanno lanciato il proprio messaggio come l'ex governatore Marcello Veneziale. L'autonomia ha sempre senso in una fase in cui non è possibile tornare indietro, tornare cioè a un accentramento dei poteri tutto sul governo centrale. Autonomia significa responsabilità, significa razionalizzazione delle spese, significa controllo da parte dei cittadini. Tutto questo deve essere realizzato, fino adesso è stato soltanto enunciato. Bisogna attuarlo. Recuperare e ricucire il rapporto con i cittadini invece è il messaggio di Giovanni Di Stasi che ha invitato l'attuale esecutivo di Palazzo Moffa a riflettere sul ruolo che le istituzioni hanno all'interno dell'Unione Europea. Intanto è polemica per la visita in Molise del Ministro della Difesa, Mauro, atteso per questo pomeriggio a Campobasso, sempre in occasione dei 50 anni della Regione Molise, a pochi giorni dalla Marcia Nazionale per la Pace che si terrà nel capologo il prossimo 31 dicembre. Il Movimento Internazionale Cattolico per la Pace ha definito il ministro come sponsor bellico degli F-35. Se vuoi amare la pace devi armare la pace. Sono dichiarazioni del ministro Mario Mauro dove si legge in una nota del movimento il senso delle parole è capovolto e quando si dice pace o sicurezza si intende in realtà solo guerra. Chi resiste ad attacchi e occupazioni diventa terrorista sino all'invenzione di ossimori fantasiosi come guerra umanitaria o missioni di pace, la propaganda cioè la distorsione dell'informazione, lo spionaggio cioè la raccolta di informazioni come mezzo di controllo sociale sono da sempre strumenti della guerra, poi concluso la nota stampa del Movimento Pax Cristi. Riaperta invece la caccia al tartufo a San Pietro Avellana dopo l'ordinanza numero 15 emessa nei primi giorni di dicembre dal sindaco Francesco Lombardi che vietava ai cavatori non residenti la raccolta del prezioso tubero nel suo territorio. A deciderlo è stato il giudice amministrativo dunque nessun rischio multa fino al 16 gennaio per chi è il tesserino grazie all'accoglimento del ricorso presentato al TAR dall'avvocato Massimo Romano accolte per la seconda volta le ragioni delle associazioni. Andiamo ora a Isernia dove i lavoratori sul depuratore partiranno a breve. il sindaco del capoluogo Pentro Luigi Brasiello ha infatti messo mano al progetto che prevede la realizzazione di due scolmatori dal costo di 100.000 euro. Sentiamo il servizio. Dopo il blizzo dell'inviato di striscia alla notizia Luca Abete contattato dall'associazione ambientalista a seguito del ritrovamento di centinaia di trotte morti e di rifiuti di ogni genere nel fiume Carpino e Cavaliere, il sindaco di Isernia è corso ai ripari, convocando ad urgenze tecnici del comune il titolare della ditta Melfi che gestisce il depuratore di Isernia. Dal tavolo è emerso che a breve partiranno i lavori perché i rifiuti altamente inquinanti che l'impianto di depurazione non riesce a depurare e contenere non vadano più a finire nel corso d'acqua. Verranno realizzate le griglie di contenimento, due scolmatori, uno in via occidentale e l'altro in via orientale e realizzarli costerà 100.000 euro. Mi sono recato personalmente sul sito del depuratore per verificare l'effettiva esistenza di questo tubo che c'è, si è visto dalle immagini e che sversa nel fiume una quantità di acqua esagerata. Per evitare questo abbiamo già condiviso con i tecnici del comune e con i tecnici che gestiscono il depuratore di effettuare dei lavori a monte del depuratore. Cioè praticamente ci sono due scolmatori che sono a norma, che sono già a norma, ma che hanno bisogno di ulteriori lavori per fare in modo che tutte quelle acque in più che attualmente vanno a finire in quel tubo vadano invece a finire in questi due scolmatori evitando quindi che possa accadere quello che abbiamo visto tutti in televisione. Ovviamente stiamo già facendo il progetto. Non ci sono i soldi. Occorrono? Ma occorrono circa 100.000 euro, 50.000 per uno scolmatore e 50.000 per l'altro. Soldi che dovremo in qualche modo o recuperare nel bilancio o addirittura immaginare di fare un debito fuori bilancio per questa somma urgenza. Quando ci sono queste criticità credo che un amministratore attendo, come nel caso dell'ambiente, debba sicuramente pensare a tutte le forme di finanziamento. Il progetto credo sarà pronto nel giro di 7-8 giorni al massimo e i lavori cominceranno appena il tempo ci consentirà di effettuarli. Si tratta di mettere praticamente due paratie vicino ai tubi che idraulicamente e meccanicamente consentono a quelle acque non solo di non uscire sempre, ma soprattutto consentono di non far uscire residui insomma poco convenienti. Un arresto e 18 denunce per reati che vanno dal furto aggravato alla ricettazione e dalla detenzione illegale di superfacenti al porto abusivo di armi dai maltrattamenti in famiglia, le lesioni personali dall'abusivismo edilizio alle violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla regolarità occupazionale. Questo è il bilancio di una vasta operazione coordinata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Isernia su tutto il territorio della provincia Pantra. Per garantire un Natale sicuro ai cittadini sono stati effettuati inoltre controlli nei confronti di 39 persone attualmente sottoposte agli arresti domiciliari e accertamenti su 347 veicoli in transito lungo le principali arterie. Occupiamoci ora della carenza di personale presso il pronto soccorso dell'ospedale Santissimo Rosario di Venafo, una situazione insostenibile per la quale il Comitato ha chiesto un tavolo tecnico al Governatore Frattura. Sentiamo i dettagli nel servizio. A causa delle fortissime carenze di personale presso il pronto soccorso dell'ospedale Santissimo Rosario di Venafo, il Comitato a difesa del nosocomio è dovuto intervenire sulla delicata situazione registrata durante il giorno di Natale. Nel reparto del pronto soccorso regna il caos e il disordine. Nei giorni scorsi la direzione sanitaria era stata opportunatamente avvisata. Un'infermiera, avendo chiesto un permesso di malattia e che quindi non avrebbe potuto svolgere il proprio servizio, l'amministrazione avrebbe dovuto regolamentare i turni spettanti, al fine di evitare gravi mancanze nel reparto. Ma nessuno ha provveduto a rimediare e a distribuire al meglio il delicato lavoro degli operatori. E al tal punto, per coprire i turni di lavoro, un altro operatore ha dovuto garantire la propria disponibilità. Senza pensare però che quest'ultimo aveva già svolto il turno notturno. Costretto dunque agli straordinari a svolgere il proprio servizio volontariamente e con sacrificio in un giorno festivo senza che li spettasse. Da qui partono le proteste e le polemiche mosse dal Comitato Pro Santissimo Rosario di Venavro. Il Comitato chiede maggiore attenzione al Presidente Frattura per riorganizzare il personale organico e per rivalutare altre questioni che si pongono di volta in volta. Il Governatore ha così deciso di convocare a Campopasso un tavolo tecnico entro la fine dell'anno al quale parteciperanno gli esponenti del Comitato Pro Santissimo Rosario, il Sindaco Sorbo e alcuni componenti della Regione Molise per mettere in chiaro una volta per tutte questa delicata situazione che oramai va avanti da tempo. Il sconto del 10% invece per dipendenti in mobilità, in cassa integrazione, guadagni e famiglie numerose in tutti i punti vendita a Oasi e Tigre della Regione. L'iniziativa è stata sostenuta dai responsabili della grande distribuzione della Filcams CGL promotrice dell'intesa. Si potrà così usufruire degli sconti con la carta unica che sarà data consegnando dei documenti riferiti appunto allo stato di lavoro oppure con quattro buoni da consegnare uno alla settimana presso i punti vendita. E andiamo ora a Termoli dove nonostante la crisi, grande successo, hanno riscontrato i mercatini di Natale, un'iniziativa che visso i prezzi modici ha consentito a tutti di fare piccoli regali. Sentiamo. Secondo i dati di Feder Consumatori, gli italiani per questo Natale hanno tagliato molto. Un italiano su cinque ha rinunciato a fare regali di Natale e chi li ha fatti ha avuto a disposizione un budget comunque ridotto. Forse è anche per questo motivo che i mercatini di Natale a Termoli hanno avuto un buon successo, come confermato da alcune venditrici. Signora, mercatini di Natale qui a Termoli, lei cosa vende? Noi facciamo manufatti in maglia e tessuto, capi artigianali che facciamo noi, tutti a macchina e a telaio. E come stanno andando le vendite? Insomma, regalino, braccialettino, la collana, vanno. Lei che cosa vende qui nei mercatini a Termoli? Noi tutti oggettini in legno fatti da noi, da me e mio marito, tutti pezzi unici, diciamo in casa è una passione che abbiamo. Senta, vedo dei prezzi molto modici, magari così riuscite a vendere anche un po' di più vista la crisi. Sì, sì, soprattutto per quello sì, perché comunque ci sono articoli che valgono molto di più, però andiamo un po' incontro a questo periodo purtroppo un po' difficile per tutti. Siamo in compagnia di una ragazza che ha qui una bancarella, allora cosa vendi? Dalle borse alla bigiotteria fatta completamente, assolutamente a mano. Sono partita dalle borse e adesso realizzo anche bijoux, confimo, fettuccia. dipende dalla giornata, dove mi porta la mia passione e la vado. In un periodo così di crisi come quello attuale, in cui stiamo vivendo un lavoro, bisogna inventarselo e tu l'hai fatto. Esatto, ci provo, non è facile per niente, però ci proviamo. Quindi, causa la crisi, crollano i consumi, ma tengono soprattutto i settori in cui si possono acquistare oggetti a prezzi modici. Passiamo ora alle notizie sportive con l'Isernia, che riparte dopo la sosta con un nuovo allenatore che prende il posto del buon Scagliarini per la ripresa delle sedute di allenamento a Lancellotta. Ci sarà Roberto Carannante, il tecnico campano, tra l'altro ex campo basso, ex atletico trivento, già a Isernia per iniziare la sua avventura. È basato un incontro lampo con il DS Petrangelo a far scattare subito il feeling e l'allenatore si è trasferito nel capoluogo Pentro, convinto che con qualche piccolo ritocco si possa provare a centrare la salvezza. In un campionato difficile come quello della Serie D a fare la differenza molto spesso sono le squadre che possono contare su under di qualità, come ad esempio il Termoli di Giacomarro. Sentiamo. Il campionato di Serie D è un campionato in cui per primeggiare bisogna avere una squadra competitiva in tutti i suoi effettivi. Un ruolo importante lo giocano gli under, che da regolamento devono far parte della squadra. Il Termoli tra i giovani ha diversi elementi di qualità, come l'attaccante Domenico Santoro, che in questa saggione si è tolto diverse soddisfazioni. Sei riuscito a realizzare anche un paio di gol, come ti trovi? Sì, mi trovo benissimo, un'ottima squadra, un'ottimo allenatore, l'ambiente è bello, mi trovo bene. Chiunque viene chiamato in causa qui a Termoli, abbiamo visto, sta facendo bene. Merito vostro o dell'allenatore? Anche merito nostro, ma anche merito dell'allenatore, che è un ottimo allenatore. Ti preoccuparà lì voi di qualche nuovo giocatore? Forse potresti trovare meno spazio? No, no, io darò sempre il massimo di me stesso. Poi aspetta l'allenatore e far giocare il giocatore. Ci racconti la gioia che hai provato quando hai segnato il tuo primo gol in Serie D? La gioia è importante perché è stato il mio primo gol e giustamente non sapevo cosa fare e ho risultato insieme ai tifosi. Ora un po' di riposo in vista della prima partita di ritorno, in cui i ragazzi di Giacomarro devono fare di tutto per portare a casa i tre punti. Si torna al lavoro in casa agnonese in vista della ripresa del campionato prevista per il prossimo 5 gennaio contro la Vispesaro, battuta all'andata per 1-0. Urbano dopo l'incoraggiante vittoria nell'ultima di andata contro l'Angolana per 1-0 è convinto che la squadra possa lottare per salvarsi, ma chiede un attaccante di peso duttile in base alle esigenze della squadra proprio per questo motivo. Il direttore sportivo Sabelli in queste ore sta sondando diverse strade, ma per il momento non ci sono novità. Si attendono però sviluppi prima della ripresa del campionato. Il Campobasso 1919 ha conquistato meritatamente 25 vittorie di fila tra campionato e Coppa. Il merito va al mister, ma anche ai giocatori duttili presenti in rosa come Matteo Monti. Sentiamo. Il Campobasso 1919, in seguito a diverse infortune nelle ultime giornate, ha dovuto fare conti con la necessità di schierare giocatori in zone del campo che solitamente non occupano. Uno di questi è stato di recente Matteo Monti, che di professione fa l'ala, ma nell'ultima partita di campionato contro il Roseto è stato schierato nella posizione di interno di centrocampo, dove si è destreggiato egregiamente realizzando anche un gol pesantissimo, quello del 2-1. Matteo, oggi per te è una prestazione di livello, giocavi in un ruolo in cui hai giocato spesso nella tua carriera, ma col Campobasso quasi mai solitamente giochi esterno. Sì, giocai anche le prime partite con la maglia del Campobasso tre anni fa in questo ruolo. Però l'importante è adattarsi, dare il contributo e dare il massimo. Penso che oggi tutti quanti abbiamo dato il massimo come sempre, abbiamo portato questo risultato che penso che sia meritato e dobbiamo continuare così. Riposiamo, adesso stacchiamo un attimo le batterie e poi pensiamo all'anno nuovo. Per te è un'ottima prestazione, premiata anche da un bel gol. Sì, sono contento, sono contento perché fortunatamente oggi la palla è andata da dentro, anche con una deviazione, però l'importante è andata da dentro. Ma più per me sono contento per la squadra perché siamo veramente un bel gruppo e c'è anche sintonia con un pubblico meraviglioso e penso che quella sia la cosa più importante. Forse proprio il pubblico oggi vi ha aiutato come in altre partite, dopo un primo tempo in cui non siete riusciti a chiudere subito la partita vi ha dato comunque un buon supporto. Sì, loro stanno sempre vicino, poi è un pubblico meraviglioso, ne lo scopro di certo io. Dobbiamo continuare così, continuare ogni partita sempre con il piglio giusto e dare tante soddisfazioni a questo pubblico perché questo pubblico veramente ne merita tante. Ora vacanze meritate in casa Campobasso con la squadra che fin qui ha fatto un campionato straordinario e a cui si aggregheranno un paio di under di qualità. Bene, con il campionato di eccellenza il nostro telegiornale termina qui. Io vi lascio alle previsioni meteo e vi ringrazio per aver scelto ancora una volta l'informazione di Molise TV. Il meteo è offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso adiacente al cinema maestoso. Previsioni del tempo per sabato 28 dicembre. Un temporaneo cuneo di alte pressioni torna ad interessare le regioni del sud-est italico favorendo così condizioni di bel tempo prevalente. Venti moderati, mari da poco mossi a mossi, temperature in aumento, specie in quota. Campobasso minima 2, massima 10 gradi. Isernia minima 1, massima 12 gradi. Termoli minima 7, massima 14 gradi. Il meteo è stato offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso adiacente al cinema maestoso. Il meteo è stato offerto da